Ma guardi, io gliela dico così, la legge di stabilità poteva e doveva segnare un passaggio di forte discontinuità in termini di riduzione della pressione fiscale, in termini di riforme e purtroppo fino ad oggi questo non si è verificato. Il nostro Paese ha assoluta necessità ed urgenza di una poderosa operazione di sottrazione, meno spesa pubblica e meno tasse. Ecco, noi ci auguriamo che nella conversione in sede parlamentare questo avvenga.